Con la polisportiva Canevari alla festa dello sport nel centralissimo campo da calcio un trofeo dedicato a Stelle nello sport con due squadre che si stanno dando grande battaglia Decisamente sì, un trofeo che era meritatissimo dall'organizzazione di Stelle nello sport è un modo per ricordare quella che è la nostra attività noi stiamo facendo Calcio 5, lo stiamo promuovendo vale la pena che in qualche modo anche grazie a Stelle nello sport questa disciplina sia conosciuta e promossa a Genova dove c'è sempre bisogno di attività simpatiche e belle per i nostri ragazzi Come sta andando la giornata? Molto bella, splendida, tantissime belle persone tantissime persone interessate a fare qualcosa di buono per i piccoli è un'esperienza assolutamente da vivere grazie ancora a tutta quella che è l'organizzazione di Stelle nello sport Calcio piuttosto che Michele Corti sei state due persone splendide ho nient'altro che dirvi ancora grazie mille volte Il calcio soprattutto con questi piccolissimi protagonisti sa essere veramente veicolo di esempi positivi Assolutamente sì, il nostro è un calcio nuovo abbiamo cercato di creare un modo per far sì che i ragazzi riescano a divertirsi senza un agonismo esagerato veniteci a trovare in Via Canevari vi renderete conto di come fare sport in modo allegro, bello e formativo può esserci al di là di quella che vuole essere la semplice vittoria piuttosto che la sconfitta si sta insieme per divertirsi lo sport nei suoi valori più alti grazie mille grazie mille